All'interno del governo c'è un clima di forte unità e voglia di fare ed è paradossale che nel paese si racconti invece di un pesante scontro politico in atto nella maggioranza. Il ministro per lo sviluppo economico Flavio Zanonato arriva a Firenze, ospite della festa del Partito Democratico, con un preciso obiettivo, restituire l'immagine di un governo solido, operativo e coeso e per farlo elenca i buoni provvedimenti contenuti nel decreto sull'Imu varato due giorni fa. C'è il tema dell'Imu, c'è il tema degli esodati, c'è il tema di forti iniziative a vantaggio della casa anche per una ripresa dell'edilizia che è uno dei grandi settori che poi trae nel resto dell'economia, c'è il tema della cassa integrazione. Abbiamo fatto un pacchetto bello insomma. Tutte misure che per Zanonato velocizzeranno il processo di consolidamento della ripresa economica dell'intero sistema Italia e questo determinerà un aumento del flusso fiscale che secondo Zanonato permetterà al governo di scongiurare l'aumento dell'IVA dal 21 al 22%. Io conto sul fatto che non si debba aumentare il punto d'IVA. L'IVA è una tassa che colpisce indiscriminatamente tutti, quindi non è una tassa che ti è in conto dei redditi perché colpisce i consumi e quindi è una tassa tra virgolette più cattiva di altre e quindi conto che si riesca a non aumentarla. Per trasformare questa speranza in una certezza però il governo dovrà trovare un miliardo di euro entro il primo ottobre.